Buonasera a tutti carissimi amici e amiche delle pagine Facebook, della Regione della Pace, dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Anche questa sera andiamo avanti leggendo, commentando e riflettendo su questa bellissima testimonianza di Gloria Polo. Gloria Polo che ha ricevuto dal Dio la missione di testimoniare non mille volte ma mille volte mille quello che lei ha vissuto, e la infinita misericordia di Dio che si è riversata su di lei. Saluto tutti voi che siete in diretta, vi chiedo subito di condividere questa diretta su tutte le vostre pagine Facebook e di mettere un mi piace in modo che anche i vostri amici possano avere questa grazia di ascoltare questa testimonianza straordinaria. Quindi saluto grazie a Boieri, Rita Brillante, Rosa Cioce, Gabriele Girardi, Anna Bisicchia, Rosalba Romeo, Sole Giallo, Lidia Damiano, Paolo Cireddo, Ili Bete Zinicche, Elai, Anna Maria Lobianco, Maria Antonietta Carosotto, Anna Sarnataro, Rita Brillante, Alessandra Roma, Roberta Painini, Barney B, Maria Rosaria Di Flora, Alessia Gianfelice, Silvana Marsiglia, Mariella Fulvo, Antonio Costanzo, Marcella Frosali, Marina Serra, Manuela Colicchia, Anna Sarnataro, Cinzia Scalisi, Anna Maria Lobianco, Olimpia Maiello, Lidia Damiano, Rossella Tiziano, Dina Canteri, Francesco Cavalluzzi Pimpo, Giampaolo Avesani, Raffaella Salastano, Rapisarda Cinzia, Angela Sicari, Nunzia Mamone, Antonella Nedda, Dani Bielli, Anna Rita Spano, Giuseppe Bonavoglia, Stefania Rovezzi, Teresa Lorito, Nica Manno, Anastasia Guarino, Cecilia Brillante, Rita Brillante, Maria Barbieri, Imma Irlando, Maria Enza, Vera Formica, Patrizia Moxedano, Federica Malaspina, Marcella Lettieri e tutti voi che siete qui in diretta siete tantissimi quindi possiamo andare avanti ecco vi chiedo subito di dirmi se la voce vi giunge forte e chiara così evitiamo già subito che qualcuno dica che non sente quando non sentite alcune volte dovete uscire da Facebook e rientrare oppure aggiornare la pagina soltamente così si risolve il problema altre volte chiaramente può essere un problema locale dove manca proprio la rete perché c'è il temporale lì dalle vostre parti e quindi chiaramente non riuscite a prendere la linea e oppure può essere alcune volte che anch'io qui abbia il computer che che ha poca linea e quindi tutti quanti e non sentite bene arriva a tratti la trasmissione però in linea di massima diciamo che va discretamente bene allora andiamo subito ad ascoltare un brano della testimonianza di Gloria Polo dalla sua viva voce ma lui mi dice ma lui mi dice tu sei una bambina io sono un giovane un ragazzo bisogna fare l'aborto io gridai no non voglio non voglio io amo il mio bambino però mi mancò il coraggio e un giorno ero in una clinica di aborti piangendo il medico senza compassione contò i soldi e mi misero in questa sala chirurgica quando mi fecero addormentare in questo letto freddo come mi odiavo quanto odiavo le mie amiche quanto avrei voluto tornare indietro con il tempo e mi fecero l'anestesia e Gesù mi mostrò nel libro della vita che io avevo avuto l'anestesia però il bambino era vivo era sveglio non si addormentò con l'anestesia migliaia e migliaia di demoni erano lì in questa sala chirurgica e loro gioivano godevano di questo terribile sacrificio quando il medico ha visto che il bambino era molto grande già senza compassione mise le sue tenaglie e cercò il corpo del bambino e lì incontrò una piccola gamba e gliela tagliò quando tagliò la gamba al bambino e uscì fuori schizzò tanto 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 sangue tanto che la mia anima divenne nera come un carbone quella del mio fidanzato quella delle mie amiche l'infermiera questo medico era lo stesso diavolo il medico è il sacerdote diabolico che offre al diavolo l'aborto quando il medico distrusse il mio bambino con questo sangue innocente Lucifero prese questo sangue se ne andò nel fondo dell'inferno con questo sangue lo rovesciò lì e con questo sangue riuscì ad aprire una porta un sigillo e uscì un angelo caduto decaduto che altrimenti non sarebbe mai potuto uscire fuori però uscì grazie a questo sangue del mio bambino il Signore mi mostrò come lui gridò nella croce come Gesù grida vedendo la generazione più perversa di tutti i tempi questa è quella generazione dove le donne noi donne abbiamo raggiunto molti diritti però siamo diventate assassine criminali il diavolo sta facendo di noi immagine e somiglianza sua delle bestie perché un animale non uccide non uccide i suoi piccoli e la donna usa questa intelligenza per uccidere il suo bambino i bambini assassinati gridano al cielo la terra geme già non ce la fa più ormai a sopportare questo sangue è un vero mare un mare di iniquità che abita sulla terra lucifero abita in un palazzo con i suoi angeli decaduti questo palazzo non è costruito con i mattoni è fatto con i sacrifici che tu di tutti gli aborti è qualcosa di mostruoso l'umanità sta diventando mostruosa non c'è nulla di più abominevole di una madre che uccide suo figlio quando io mi svegliai da questo aborto io ero morta avevo così tanto dolore mi odiavo tanto 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 arrivai a casa mia piangendo e quando entrai nella mia camera vedevo che usciva del latte dai miei seni allora io sprofondai nell'alcol per poter anestetizzare questo caddi nell'anoressia nella bulimia facevo aerobica fino a essere sfinita come morta con tante ore di aerobica sprofondi tu fai nella scienza nello studio giovani non ne vale la pena avere delle relazioni avere dei rapporti è una menzogna non vale la pena venti minuti di piacere se alla fine tu finirai per distruggere la tua vita caricandoti di un dolore così orribile di aver ucciso tuo proprio figlio il diavolo è mentiroso il diavolo è menzognero con questo potere per questo è che l'umanità è diventata atea i paesi muoiono perché hanno chiuso il loro cuore a Dio la gente vive come se non ci fosse eternità è triste come dopo dopo aver fatto l'aborto il demonio lucifero formò un abisso nella mia mente e io finì per difendere l'aborto l'aborto e io ho spesi delle grandi quantità di denaro perché le donne potessero abortire perché io divenni immagine e somiglianza di lucifero le persone che sono abitate da lucifero attaccano la chiesa attaccano i sacerdoti ne parlano male però dicono che loro sono buoni che io non faccio nulla di male che io sto costruendo un mondo migliore e questo è stato quello che io ho fatto fratelli Dio mi ha mostrato quanti figli io ho ucciso i governi sono menzogneri quando dicono che l'aborto è un diritto è una menzogna si sono accorti che una donna dopo aver abortato già non può più dormire piange si odia quanti cancri ci sono nei seni nelle matrici quante donne che non possono avere figli perché quando erano delle bambine distrussero i loro organi genitali con un aborto questo è terribile è un terribile peccato è quello che fa sì che i sacerdoti caddano in molti peccati quando un sacerdote cade in un peccato il Signore ci mostra quanti aborti hanno fatto sì che quel sacerdote sprofondasse quando si richiuse il libro della mia vita quanto dolore ogni parola che io dissi ogni parola dovetti dare conto rendere conto a Dio quando mi chiesero che tesori spirituali tu hai le mie mani erano vuote a che cosa ti sono servite tutte le tue case te ne sei potuto portare anche solo un mattone dietro a che cosa ti è servito così tanto denaro e così un gran culto ecco carissimi abbiamo ascoltato questa sera questa testimonianza drammatica di Gloria Polo quando lei vede l'aborto del suo bambino ecco l'aborto che il Concilio Vaticano II definisce abominevole delitto l'aborto è il più grave di tutti i delitti perché è l'uccisione di un innocente indifeso non c'è creatura più innocente e più indifesa di un bambino nel grembo della mamma che come avete sentito viene fatto a pezzi ma ci sono dei modi di abortire veramente terribili quindi questo è il delitto più grave del nostro secolo e del nostro tempo voi pensate che da quando c'è la legge sull'aborto gli aborti nel mondo sono circa un miliardo e duecento un miliardo e mezzo e come dice Gloria Polo Satana prende il sangue di quel bambino perché il dottore diventa un sacerdote di Satana quando uccide il bambino prende il sangue di quel bambino scende nell'abisso dell'inferno e apre un sigillo rompe un sigillo e fa uscire un demone che altrimenti non sarebbe potuto uscire dall'inferno ecco perché la nostra sanità è alla rovina perché i medici non hanno più compassione perché sono sacerdoti di Satana tante volte in Italia sembra che stia crescendo l'obiezione di coscienza nei riguardi dell'aborto e spero che cresca anche quella nei riguardi dell'otanasia perché ormai anche in Italia con l'ultima legge che il nostro governo ingiusto, iniquo, anti-Dio, anti-Cristo ha fatto la DAT cioè una legge che consente anche in Italia l'eutanasia ed è la legge più permissiva al mondo quella che c'è in Italia tant'è che una persona sana, sanissima potrebbe andare in ospedale e farsi morire di fame e di sete e i medici dovrebbero per legge lasciarla morire siamo in un tempo veramente drammatico terribile quel tempo di cui San Giovanni Paolo II ha parlato tanto e che ha definito come la cultura della morte mentre ha tentato questo santo Papa di contrapporre alla cultura della morte il Vangelo della vita Evangelium Vitae il Vangelo della vita ecco carissimi l'aborto è il delitto più grave del nostro tempo e veramente cerchiamo di impegnarci quando conosciamo qualche donna che ha il desiderio il sentimento di abortire di aiutarla a non farlo a non farlo perché attraverso l'aborto distrugge se stessa avete sentito quello che dice Gloria Polo la sua anima nel momento in cui il sangue del bambino schizzò dal suo corpicino divenne nera così anche l'anima di suo marito l'anima del medico l'anima dell'infermiere l'anima di tutti quelli che hanno collaborato all'aborto tant'è che il Catechismo della Chiesa Cattolica dice con chiarezza che chi compie l'aborto incorre nella scomunica ipsofatto e late sentenze cioè subito e immediatamente chiunque fa l'aborto direttamente o collabora con l'aborto incorre nella scomunica quindi abbiamo uomini e donne scomunicati medici scomunicati infermieri scomunicati politici scomunicati voi pensate che oggi viene esaltato Marco Pannella e Labbonino che sono stati le due punte di diamanti che hanno portato in Italia la cultura abortista la cultura divorzista e tutta quella anticultura cristiana oggi siamo giunti a questo punto di esaltare quelli che ci hanno portato all'autodistruzione e come dice Gloria Polo che poi in un modo più forte ha detto anche San Giovanni Paolo II un popolo che uccide i propri figli è un popolo senza futuro e noi ormai siamo un popolo che sta andando verso l'estinzione come gli etruschi perché ormai in Italia l'Italia ha uno dei tassi della natalità più bassi del mondo credo e abbiamo l'1.2 quindi una coppia di persone sposate oppure ormai conviventi perché non si capisce più nulla fanno un figlio punto 2 quindi neanche due figli quindi non riescono a rimpiazzare i due genitori quindi alla morte dei genitori si dimezzerà praticamente la popolazione italiana siamo in un tempo veramente drammatico solo Dio può fare qualcosa ma noi dobbiamo aiutare Dio ecco dobbiamo aiutare Dio perché la Beata Vergine Maria Meggiugoria dice continuamente voi siete miei apostoli ho bisogno di voi ciascuno di voi è importante nel mio piano allora tutti dobbiamo impegnarci in favore della vita in favore della cultura della vita in favore del Vangelo in favore dei sofferenti in favore degli innocenti dobbiamo difendere tutti quei valori cristiani i cosiddetti principi non negoziabili con forza perché ormai ci stanno convincendo che morire è meglio che vivere che peccare è meglio che essere in grazia che avere atti sessuali impuri è meglio che essere vergini che arrivare al matrimonio con l'impurità è un valore cioè veramente è stato sovvertito tutto quello che il Vangelo in duemila anni ci ha insegnato questo significa rinunciare a Cristo rinunciare alla verità diventare apostati e se non lo si è tante volte dal punto di vista teorico perché tanta gente dice di credere lo si è poi dal punto di vista pratico cioè si vive come se Dio non esistesse e se non c'è Dio c'è Satana perché come ci ha insegnato anche Padre Amort la nostra vita non rimane mai libera da qualche influenza o c'è l'influenza di Dio la sua presenza il suo amore la sua misericordia il suo spirito santo oppure c'è lo spirito maligno con i suoi desideri i suoi sentimenti la sua malvagità la sua menzogna la sua perversione e tutto quello che Satana porta e quindi anche nei giovani aumentano a dismisura i suicidi e poi quello che ha detto Gloria Polo è molto importante perché i sacerdoti cadono a causa degli aborti c'è un legame profondo tra questo sacrificio che i genitori fanno a Satana del proprio figlio e la caduta dei sacerdoti perché misteriosamente un peccato così grave dà a Satana un potere grandissimo anche contro i ministri di Dio e purtroppo vediamo veramente che anche tanti sacerdoti hanno compiuto gravi gravissimi peccati ne parleremo adesso nella testimonianza di Gloria Polo ecco quindi voglio leggere qualcuna delle vostre testimonianze già ho letto una persona che ha scritto che se non l'avessero convinta che era solo un embrione ma l'embrione è già un essere vivente alcuni dicono un grumo di cellule no? per dire no non è una vita umana è un grumo di cellule una grande menzogna lì c'è già un bambino nel momento in cui i gameti maschile e femminile si uniscono lì c'è un nuovo essere umano unico e irripetibile e quindi dice probabilmente che anche lei ha fatto questo grave crimine quindi si diventa assassini eh? attenzione è una parola forte ma che oggi non si vuole pronunciare la mamma diventa assassina del suo bambino il papà diventa assassino del suo figlio e anche se nessun tribunale umano mai condannerà al carcere all'ergastolo e chi ammazza un bambino davanti a Dio l'omicidio rimane tant'è che molti che compiono questo abominevole delitto purtroppo si dannano eternamente diventando sacerdoti di Satana che Dio ci scansi e liberi ma purtroppo sappiamo che siamo dentro questa autodistruzione dell'umanità che veramente sembra quasi come una forma di ubriachezza si è diventati ebri della propria libertà cioè si può fare tutto oggi il libertinaggio no? quello che proponevano Pannella Labonino la cultura libertaria tu puoi fare tutto quello che vuoi non ci sono limiti puoi fare tutto quello che vuoi Dio ci mette dei paletti come chi sa che al lato della strada c'è un baratro un burrone allora metti il guardarail e questi paletti sono questo guardarail sono i dieci comandamenti per poter seguire la strada e non cadere nel burrone loro questi della cultura libertaria dicono no non devono esserci questi paletti tu devi essere libero di volare togli il guardarail e vediamo come voli nell'abisso è veramente qualcosa di assurdo la cecità che oggi si è diffusa in tutto il popolo in quasi tutto il popolo di Dio perché sono pochi che ormai ragionano in favore del matrimonio in favore della vita grazie a Dio la Polonia sta riprendendo quei racconti scusate sta riprendendo quei valori che sono propriamente cristiani sulla base chiaramente della testimonianza di San Giovanni Paolo II ed è l'unica che difende con forza l'unica al mondo c'è qualche nazione anche africana al mondo che difende con forza il valore della vita il valore del matrimonio i valori del Vangelo e invece noi l'Italia la Francia poi non ne parliamo la Spagna per carità se poi parliamo delle nazioni del nord Europa sono già nell'abisso completamente scristianizzate secolarizzate e ateiste ormai Silvana Marsiglia dice ringrazio il buon Dio per la fede senza questa grazia saremmo tutti all'inferno Dio mio nessuno arriva facilmente in paradiso la vedo come una cosa quasi impossibile no carissima Silvana è possibile tant'è che Gloria Polo ha compiuto questo aborto no? ha ucciso il suo bambino adesso ho qui una grande testimone dell'amore di Dio lei ci entrerà in paradiso perché è una donna che ormai è stata trasformata dalla misericordia di Dio ecco questo è un segno di speranza anche le donne che hanno abortito che hanno compiuto questi gravi crimini che hanno compiuto l'adulterio che hanno rinnegato Cristo se vogliono con la grazia di Dio possono rifare un cammino di grazia e un cammino di santità non solo di grazia un cammino di santità in Irlandu dice ogni volta che si parla di aborto mi sento colpevole anche se la gravidanza aveva subito dei raggi X ma non avrei mai fatto perché amo tanto i bambini cioè vuol dire che ha perduto in modo naturale un bambino e forse sono stati i raggi X che hanno influito negativamente sul bambino e che poi lo hanno fatto morire non lo sappiamo potrebbe essere potrebbe essere anche di no però bisogna sicuramente essere molto molto prudenti e non fate analisi particolari che possono mettere a rischio la vita del bambino carissime donne perché? perché non c'è bisogno come nasce il bambino se neanche dovesse nascere down se dovesse nascere disabile è un dono di Dio immenso mi viene in mente la testimonianza di due genitori che avevano una figlia disabile che è morta a 23 anni sono andati in una depressione fortissima perché quella figlia era tutto per loro ecco lì si è manifestato veramente quanto amavano questi genitori la propria figlia pur essendo sulla sede a rotelle quindi ogni vita umana è unica e irripetibile un valore assoluto sulla terra solo Dio la dà solo Dio la può togliere per ogni coppia dice Rino Speranza che dice come si può fare si fa a fare un figlio e a portarlo avanti a crescerlo poi devo farlo soffrire allora non si faceva 7-8 figli sì bravo carissimo Rino anche di più io ho la testimonianza di questa coppia che tutti quanti conoscevi sicuramente perché sono stati a Sanremo la famiglia Anania che hanno 18 figli 18 bambini e sono dei cristiani credenti appartengono al movimento dei neocatecumeni hanno 18 bambini li incontro ogni volta mi conoscono siamo amici è veramente è una gioia ogni volta che li incontro a vedere tutti questi bambini una meraviglia come fanno loro lui è un bidello ha lo stipendio da bidello nient'altro allora con il primo figlio hanno messo da parte i vestiti le scarpe quello che è rimasto e l'hanno passato al secondo figlio e poi così e crescendo poi gli altri hanno aiutato la mamma a portare avanti gli altri bambini e poi hanno incominciato a lavorare a dare una mano d'aiuto alla famiglia hanno vissuto in modo molto sobrio e stanno venendo su dei bravi ragazzi cristiani e qui invece tante volte oggi c'è il figlio unico che è super viziato che alla fine non amerà neanche i genitori che sarà uno un frustrato della vita pieno di traumi invece le famiglie numerose cresciute nei principi cristiani vengono su bene come si fa? con la grazia di Dio e con l'impegno e il sacrificio dei genitori Dino Sibono dice il tribunale di Dio non perdona i sacerdoti di Satana è purtroppo è proprio così speriamo carissimo Dino che si possano convertire i politici hanno rovinato le nuove generazioni bisogna recuperare i valori cristiani altrimenti è il principio della fine ci siamo già dentro carissimo Dino il problema è che dobbiamo dire anche un'altra cosa chi è che ha mandato questi politici disonesti scristianizzati falsi cristiani falsi cattolici di al governo e chi ancora li sostiene? i cristiani cattolici allora la responsabilità è nostra anche loro vanno lì con il consenso dei popoli tant'è che ha detto la Madonna in un messaggio che i popoli risponderanno dei peccati dei politici perché loro gli hanno dato il consenso quindi e i politici a loro volta risponderanno dei peccati dei popoli perché fanno delle leggi ingiuste che poi creano una mentalità peccaminosa le cosiddette strutture di peccato come la legge sull'aborto che porta tantissime donne che magari se non ci fosse stata questa legge non avrebbero abortito con questa legge tante donne vanno ad abortire bene questo è un tema veramente molto sensibile a cui io tengo molto quindi impegniamoci in favore della vita difendiamo la vita sempre comunque dovunque sana malata intelligente o meno intelligente ogni vita umana è Cristo che ritorna sulla terra perché Dio si è fatto uomo in ogni vita umana c'è l'immagine e somiglianza di Dio ecco Dio si è fatto uomo chiaramente è Cristo che poi diventerà tale nel momento in cui quella persona sarà battezzata e dunque lo Spirito Santo prenderà processo di quell'anima e in quell'anima ci sarà la presenza stessa di Gesù e poi volevo dirvi anche un'altra cosa c'è una bella preghiera che si può fare per battezzare i bambini abortiti affinché queste anime che magari ancora reggemono che magari si salveranno non sappiamo è un mistero questo dei bambini abortiti non c'è una posizione chiarissima neanche della Chiesa su di loro perché non hanno peccato personalmente ma hanno il peccato originale molti non sono stati battezzati quindi c'è un mistero sulla loro vita noi preghiamo e battezziamoli con un battesimo di desiderio con il nome che Dio ha scelto per loro c'è una bella preghiera che io ho pubblicato sulla pagina della Reggina della Pace se voi andate un po' indietro nei posti la trovate ecco fatela perché tanti bambini magari ne possono avere grandissimo beneficio e possono diventare grandi mediatori di grazia e di grazie sia per noi che per l'intera umanità bene adesso andiamo a leggere il testo e continuiamo a riflettere su questa straordinaria testimonianza la prima confessione vedi nel libro della vita che la mia anima macchiata dal peccato ritornò limpida nella mia prima confessione dice Gloria Polo fui preparata alla ricezione di questo sacramento da alcune suore che mi aiutarono a comprendere che mi ero allontanata dalla mano di Dio che stavo camminando verso le fauci spalancate del diavolo pronto a sbranarmi ricordate quello che dice l'Apostolo Pietro il diavolo come leono ruggente va in giro cercando chi divorare resistetegli saldi nella fede quindi Satana è sempre in giro per cercare di sbranarci per farci cadere cioè nel peccato mortale dunque condurci verso la dannazione eterna e che ciò faceva intrestire Dio che era innamorato di me ecco Dio è innamorato di noi Dio ci ama ma ci ama di un amore così grande che non possiamo neanche concepirlo tant'è che anche la Madonna ha detto a Meggiugorie se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia cioè i nostri occhi si riempirebbero di lacrime nel sentire quest'amore profondo viscerale che la Madonna ha per noi e figuriamoci Dio se Maria ha un amore così grande che ci commuoverebbe fino alle lacrime se noi sapessimo e conoscessimo quanto ella ci ama figuriamoci se conoscessimo l'amore di Dio ed era quello che il poverello di Assisi San Francesco diceva andando per Assisi si è gridando l'amore non è amato l'amore non è amato ecco noi dovremmo amare veramente con tutto il cuore con tutta l'anima con tutta la mente con tutte le forze questo Dio che ci ama di un amore infinito e che ha fatto tutto quello che poteva fare per salvarci e per condurci nelle sue vie che sono le vie della pace e le vie della gioia sentire questo fu per me importantissimo e piansi al pensiero di aver abbandonato la sua mano ecco Dio ci prende come per mano fin da bambini e ci conduce nella via tortuosa della vita affinché non ci smarriamo provai un sano dolore di pentimento e diserai ritornare a lui nella prima confessione questo vidi nel libro della vita che la notte precedente la mia prima confessione il diavolo con altri demoni cercò di turbarmi instillandomi la paura di confessarmi ecco questa è una paura che hanno tanti questa paura viene da satana proprio l'altro giorno è venita a trovarmi una famiglia c'era anche una ragazza che non ha voluto confessarsi ha avuto paura non c'è stato niente da fare ho cercato di rassicurarla che io non avrei fatto altro che del bene a lei che la confessione rimane nel sigillo sacramentale dunque nessuno può sapere quello che si dice in confessione perché altrimenti c'è la scomunica per il sacerdote non c'è stato niente da fare non ha voluto confessarsi perché aveva dei traumi così profondi che magari venivano anche da una situazione precedente che purtroppo le è rimasta bloccata quindi dobbiamo sentire sapere che Dio ci ama e ricarci dal sacerdote chiunque egli sia il sacerdote assolve in nomine Cristi e in persona Cristi se è anche un peccatore risponderà a Dio dei suoi peccati ma quello che lui compie nel ministero sacerdotale è valido se lo fa con l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa provai un sano dolore dunque di pentimento e desiderai ritornare a lui vedi nel libro della vita che la notte precedente alla mia prima confessione il diavolo con altri demoni quindi non uno solo ma con altri demoni e ancora ci sono quelli che non credono al diavolo cercò di turbarmi instillandomi la paura di confessarmi dunque il diavolo con altri demoni tenta una bambina non si sta parlando di chissà quale quale donna formata o peccatrice una bambina che viene tentata non solo da un demone ma da più demoni io ricordo che quando ero bambino ci insegnavano al catechismo che da una parte abbiamo l'angioletto e dall'altra parte c'è il diavolo che ci tenta mentre l'angelo cerca di condurci nella via di Dio oggi invece ai bambini non deve parlare del diavolo perché altrimenti li traumatizzi falso ai bambini bisogna dire la verità anche in queste realtà terribili spirituali come la Madonna ha fatto alla Salette a Massimino e Melania come ha fatto ai pastorelli di Fatima a Giacinta Francesco e Lucia e a tanti altri bambini una madre che vuole il bene dei suoi figli fin da piccoli li educa ad evitare il male e a guardarsi dai pericoli e da coloro che fanno il male specialmente dal diavolo pregai una Ave Maria e la nostra Mamma Celeste arrivò con gli angeli così io potrei addormentarmi tranquillamente pensate con una semplice Ave Maria Gloria Polo da bambina ha fatto scendere dal cielo la Madonna con una schiera di angeli per liberarla dalla tentazione del maligno subito capite io domando spesso ai bambini ma pregate tutti i giorni molti rispondono no l'ho domandato tante volte anche a gruppi di bambini di prima comunione molti di bambini di prima comunione mi hanno risposto no non solo della mia comunità ma anche di altre comunità oggi c'è purtroppo questa cattivissima abitudine di andare a dormire senza pregare mentre io mi ricordo che da bambino mai sono andato a dormire non so sarà capitato forse qualche volta ma neanche la ricordo mi ricordo di aver pregato quasi tutti i giorni della mia vita da bambino perché mi era stato insegnato così e quella preghiera che facevo era veramente una grande forza sentivo proprio questa esigenza questo desiderio di pregare la preghiera della sera il Padre Nostro la Maria le preghiere della sera ecco invece oggi tantissimi bambini non pregano più e dunque sono succubi delle tentazioni anzi magari si addormentano con il cellulare con la televisione con la playstation con queste altre diavolerie che trasmettono giochi violenti giochi pornografici stupidità demenzialità cose diaboliche specialmente queste che vengono anche dal dal Giappone dalla Cina tante volte questi cartoni animati hanno qualcosa di diabolico di demoniaco dunque facciamo attenzione ad educare i bambini fin da piccoli a stare attenti alle tentazioni a pregare il giorno successivo mentre ero in fila per la confessione il demonio mi spinse al sacrilegio consigliando al mio pensiero di non confessare tutti i miei peccati al sacerdote capite? il diavolo la spinse al sacrilegio eccola qui come è venuta fuori Gloria Polo una donna prima che era tutta vanità tutta intenta soltanto a curare se stessa e poi aveva questo abito nero in questa occasione che rappresentava proprio la l'oscurità della sua anima no? una donna molto superficiale e invece questa è la gloria di dopo una donna piena di luce una donna luminosa positiva un volto solare dopo che si incontra Dio tutta un'altra donna ecco quindi facciamo attenzione carissimi veramente ad educare i bambini fin da piccolissimi alla vita di fede e alla preghiera dunque il giorno successivo mentre ero in fila per la confessione il demonio mi spinse al sacrilegio consigliando al mio pensiero di non confessare tutti i miei peccati al sacerdote specialmente quelli che a me sembravano vergognosi forse i peccati di impurità egli bramava infatti più di ogni cosa il demonio più di ogni altra cosa che la mia anima rimanesse sudicia lo spirito santo lo spirito santo venne in mio aiuto e ricevetti così la grazia di Dio per fare una buona confessione capite c'è tanta gente che ha vergogna a confessarsi i peccati impuri cioè non ha vergogna a compierli e magari tante volte anche in modo sfacciato però ha vergogna poi a confessarli in quel modo si fa sacrilegio della confessione diventa invalida a quella confessione si va con i propri peccati e si esce dalla confessione con un peccato in più quello del sacrilegio che è un peccato gravissimo molto grave il sacrilegio della confessione lo spirito santo però in quell'occasione a Gloria Polo venne in suo aiuto così ricevette la grazia di Dio per fare una buona confessione nel libro della vita vidi la bellezza mistica del sacramento della confessione ricordate noi vediamo soltanto con gli occhi del corpo l'aspetto del segno cioè una persona che va da un sacerdote che dice i suoi peccati il sacerdote alza la mano e assolve nel nome del padre il figlio e lo spirito santo ma misticamente spiritualmente ci sono delle grazie straordinarie degli eventi straordinari il sangue di Gesù scende su quell'anima lo spirito santo ritorna ad avere sede stabile e a guidare quell'anima se il signore mi avesse lasciato in pieno ricordo della mia esperienza mistica e la conoscenza delle realtà spirituali quali esse sono in verità sarei sicuramente impazzita perché non avrei potuto contenere in me una verità di tale grandezza e bellezza i doni dei sacramenti sono qualcosa di inconmensurabile la nostra mente non è capace di comprendermi Dio nei sacramenti si dà tutto senza misura non risparmia nulla tante volte neanche noi sacerdoti siamo consapevoli di quei doni infiniti che amministriamo non avrei infatti potuto elaborare nulla di più di quel pochino che egli mi lasciò impresso nella memoria del poco che ricordo però posso dirvi che vedi qualcosa riguardante il sacramento della confessione che pur essendo superiore all'intelligenza umana è reale in spirito e verità purtroppo noi sulla terra siamo limitati a vedere principalmente ciò che è fisico perché siamo esseri mentali e razionali abituati a vedere con gli occhi fisici e a far passare tutto per il cervello e non per il cuore capite ci sono due strade c'è la strada del cervello che razionalizza tutte le connessioni psicologiche la cultura che abbiamo acquisito il linguaggio e poi c'è la strada del cuore che passa direttamente nello spirito con gli occhi della carne nel confessionale si vede solo un sacerdote un uomo peccatore e possiamo essere tentati a non confessare i nostri peccati a quest'uomo che magari potrebbe essere realmente peggiori di noi che magari potrebbe essere realmente peggiori di noi questa è la tentazione no? vedere l'aspetto semplicemente umano e dire ma chi me lo fa fare ad andare a confessarmi da questo sacerdote che io so o che io immagino che possa essere più peccatore di me e invece c'è qualcosa in più nel sacerdote bisogna andare oltre dell'aspetto umano ed entrare nel mistero nell'aspetto divino come abbiamo detto ieri San Giovanni Paolo II ha scritto un bellissimo libro nel giorno del cinquantesimo del suo sacerdozio dove lo ha intitolato Dono e mistero e ha richiamato il passo della lettera agli ebrei dove si dice nessuno può attribuirsi questo onore se non chi è chiamato da Dio cioè nessuno può diventare sacerdote da sé solo chi viene chiamato da Dio io carissimi fratelli e sorelle veramente dico Dio ha voluto volgere il suo sguardo misericordioso su di me che sono talmente povero umanamente eppure lui mi ha scelto allora se lui mi ha scelto io devo ringraziare benedire e cercare di impegnarmi per fare quello che posso per servirlo nel modo migliore perché alcune volte veramente dice ma io sono indegno di servire un Dio così grande così immenso così misericordioso così perfetto così santo diceva un santo sacerdote della mia diocesi di cui c'è in cammino il processo di beatificazione il sacerdote ha nell'anima sempre il sentimento del fallimento perché noi sacerdoti abbiamo nell'anima il sentimento del fallimento perché ci rapportiamo con Cristo e chi è che può reggere il passo di Gesù ma nessuno neanche gli apostoli abbiamo visto gli apostoli come erano anche loro imperfetti poi camminando più avanti dopo il dono dello Spirito Santo con potenza allora sono giunti a perfezionarsi fino a sacrificare la vita però prima anche durante il ministero pubblico di Gesù quando Gesù insegnava e compiva miracoli erano molto imperfetti gli apostoli le vediamo che gareggiano fra di loro per dire chi diventerà primo ministro chi avrà un onore più grande e così via quindi allora cosa dobbiamo fare noi sacerdoti? guardare alla predilezione di Dio cioè se Dio mi ha amato se Dio mi ha scelto chi sono io per giudicare me stesso mi giudichi Dio io cerco di fare quello che posso per servirlo nel modo più degno possibile e i peccati le difficoltà le carenze le incapacità rimangono nel sacerdote perché è un uomo fatto di carne come voi quindi non dobbiamo giudicare il sacerdote i peccati che magari compiono i sacerdoti e ne abbiamo visti di gravissimi e ha detto il Santo Padre Benedetto XVI che Satana ha quasi voluto buttare in faccia alla Chiesa nell'anno sacerdotale che il Papa aveva indetto proprio per cercare di far rialzare il ministero sacerdotale Satana gli ha buttato addosso tanti peccati specialmente questo peccato ignobile che è la pedofilia non c'è cosa più abominevole in un sacerdote che si abbrutisce a compiere un peccato così grave e così abominevole che grazie a Dio oggi la Chiesa condanna con fermezza con chiarezza sia dal punto di vista canonico ma i vescovi hanno l'obbligo e il dovere di denunciare anche i sacerdoti pedofili quei pochi che ci sono perché chiaramente quando sbaglia un sacerdote tutto il mondo lo sa quando poi in tutte le altre categorie ci sono di questi peccati molto superiori a quelli che compiono i sacerdoti chiaramente vengono un po' messe da parte perché il sacerdote fa scalpore e Satana vuole scandalizzare il più possibile per mettere nella testa della gente che se sbaglia uno possono sbagliare tutti e invece non è così e oggi purtroppo attraverso i mass media con un solo evento si può far sembrare che tutto sia così perché il mondo si riempie di quella notizia invece grazie a Dio c'è veramente una piccolissima parte di sacerdoti che sono caduti in questo abominevole delitto ignobile delitto della pedofilia e invece sono tanti sacerdoti che quotidianamente si sacrificano pregano che muoiono nelle missioni che prendono tante malattie quasi tutti i missionari che vanno in Africa in Asia prendono malattie e poi si ammalano per tutta la vita tanti quindi ma anche tanti qui in Europa che lottano in un ambiente così ormai ostico contro la fede così arido nella fede e io ringrazio Dio perché anche voi per me siete un sollievo cioè per un sacerdote vedere delle delle anime che hanno fame e sete di Dio ma non avete idea quale ricompensa è e quello che diceva l'Antico Testamento Dio nell'Antico Testamento riempirò il cuore dei sacerdoti di delizie queste sono le delizie che un sacerdote ha quando vede delle anime che hanno fame e sete di quello che lui dà cioè di Dio della verità di Dio del Vangelo della grazia di Dio questa è la delizia che c'è nel cuore del sacerdote quando il sacerdote invece vede anime che non si curano che sono sciatte dal punto di vista spirituale che non vogliono pregare che si scocciano ad ascoltare la parola di Dio che non si accostano ai sacramenti che continuano a pensare a ragionare come il mondo che sono odiosi che si bisticciano fra di loro questa diventa una grande mortificazione per il sacerdote sembra che quella semente che lui semina continuamente non porti nessun frutto e invece in qualche cuore il frutto c'è sempre quindi noi sacerdoti se qualche sacerdote ascolterà questa diretta non dobbiamo mai scoraggiarci anche nei momenti più tristi e più bui quando vediamo veramente che il nostro ministero sembra non portare nessun frutto in realtà Dio sta operando e prenderà quel sacrificio di quel momento per farlo fruttificare poi in un altro momento dunque preghiamo molto per i sacerdoti pregate anche per me perché ne abbiamo tutti bisogno andiamo avanti anzi voglio leggere adesso carissimi qualcuno dei vostri commenti perché è giusto coinvolgervi anche in queste riflessioni che ho fatto finora ecco io direi di non carissima Rossi di non ringraziare me vi chiedo veramente ringraziate sempre Gesù e Maria non ringraziate me non ringraziate me perché io non ho nulla io do soltanto quello che ho ricevuto come dice l'Apostolo Paolo noi abbiamo ricevuto e dobbiamo donare gratuitamente ha detto Gesù avete ricevuto gratuitamente date quindi noi dobbiamo dare quello che abbiamo ricevuto se non diamo le grazie i doni che Dio ci ha dato non per noi stessi ma per il popolo di Dio questa è una colpa per il sacerdote i talenti e i carismi non vanno messi sotto terra ma vanno donati e non sono i nostri sono di Dio Anna Maria Lobbianco dice io sono stata rimproverata dalla psicologa di mia nuora dicendo che io sbagliavo di parlare di Gesù e Maria i compagnetti della classe lo chiamavano il Papa a mio nipotino tanto purtroppo è già sfuggita no non ha sbagliato carissima continua a parlare di Gesù continua a educare il suo nipotino nella fede a dargli quei valori perché purtroppo il mondo oggi voi pensate che nelle scuole elementari e negli asili non si può più fare il presepe mi diceva un insegnante proprio pochi giorni fa che dice non si può fare il presepe non puoi parlare di Gesù è qualcosa di assurdo guardate che c'è una scristianizzazione che fa paura perché dice dobbiamo rispettare se ci sono bambini di altre nazionalità che magari sono islamici ma che discorso è questo ma loro non ci chiedono di non essere cristiani cioè gli islamici che vengono in Italia non ci chiedono di togliere il presepe non lo chiedono sono invece i nostri atei quelli nostrani quelli di cultura ateista marxista scristianizzati cioè questi che hanno rinunciato alla fede che vogliono oppure libertaria che vogliono che non si parli di Gesù che non si parli della fede parliamoli ai bambini insegniamo ai bambini edicamoli alla preghiera a leggere il Vangelo ai valori cristiani il frutto prima o poi verrà Anna Sarnataro dice Don ma i peccati che si sono dimenticati e non si confessano cosa succede? Carissima Anna un peccato grave un peccato mortale molto difficilmente si dimenticherà perché Dio ci dà una grazia per ricordarli i peccati veniali sicuramente non riusciremo a ricordarli tutti ma il peccato mortale e il peccato grave prima o poi lo Spirito Santo lo susciterà di nuovo nella mente allora in quel momento che noi prendiamo coscienza che siamo andati a confessarci e non l'abbiamo detto scriviamolo magari in un foglietto lo teniamo nascosto solo per noi e quando andiamo alla sacerdote lo confessiamo perché è importantissimo liberarsi di questi peccati questa grazia la dà proprio Dio di poterci liberare di tutti i peccati mortali di tutti i peccati gravi e chiaramente ci vuole anche un esame di coscienza approfondito perché noi dobbiamo aiutare alla grazia di Dio Alessia Gianferigia dice padre mi è capitato qualche volta di confessarmi e non ricordare avendo nella mente una nebbia totale dei peccati commessi e ricordarli dopo quindi tornare di nuovo dal sacerdote per confessarmi di nuovo e scusarmi e confessarmi di nuovo e scusarmi perché non avevo ricordato quel peccato sì proprio così carissima Alessia bisogna confessare i peccati che non sono stati confessati altrimenti quella confessione non è completa e può essere anche invalida se non si è fatto un buon esame di coscienza i vostri commenti vanno veloci io riesco a vederne soltanto alcuni mi dispiace spesso accade non trovare disponibilità da parte dei sacerdoti che fare oltre la preghiera e i sacrifici Dio ci perdone carissima qualche santuario dove ci sono dei religiosi o dei sacerdoti disponibili si trova sempre quindi dobbiamo oppure se facciamo qualche pellegrinaggio ogni tanto sono importanti anche i pellegrinaggi per rinverdire la nostra fede e la nostra devozione verso la Madonna verso Gesù verso alcuni santi ecco quindi facciamoli verso Gesù chiaramente l'adorazione non la devozione verso la Madonna e i santi la devozione quindi facciamoli i pellegrinaggi perché ci aiutano tanto specialmente vi consiglio il più bel pellegrinaggio che oggi c'è dopo la terra santa che è in Meggiugorie Gina Cerrato dice io pure ho letto il libro di Gloria Polo veramente bello l'ho consigliato ai miei amici e parenti di leggerlo adesso lo voglio rileggere sì carissima Gina è un libro che va letto e riletto io lo sto spiegando ma l'ho letto tante volte ai miei pellegrini ed è stata sempre un'esperienza bellissima cioè mentre andavamo a Meggiugorie soltamente al ritorno io leggo leggevo il libro di Gloria Polo e anche la Santa Messa di Catalina Rivas questi due testi e ogni volta che lo leggo e lo rileggo capisco qualcosa in più perché è talmente profondo veramente è una testimonianza ispirata c'è l'unzione dello Spirito Santo in questa testimonianza perché c'è un comando di Gesù e ci sono nascosti tanti segreti tanti misteri una bellezza incomparabile perché lei ci dice ciò che è nascosto che i nostri occhi non vedono ed è qualcosa di meraviglioso conosce la nostra fede non in un modo formalistico ma in un modo profondo mistico Anna Chiapparino dice vero Don Pietro l'umanità ha bisogno di guida spirituale così si salvano le anime e si ama Gesù ti amo Gesù sì chiaramente i sacerdoti possiamo fare molto per aiutarvi ad amare Gesù possiamo fare molto perché noi siamo stati inviati proprio per questo per far amare Dio per far conoscere la sua verità ma anche per far mettere in pratica i suoi comandamenti tant'è che Gesù stesso ha detto chi mi ama osserva i miei comandamenti quinto comandamento non uccidere ecco se tante donne osservassero il quinto comandamento non abortirebbero Barbara Mazzilli dice Don Pietro da quando la seguo sto capendo effettivamente cos'è il Vangelo una nuova scoperta mi fa piacere carissima Barbara non sono io ma è Dio è lo Spirito Santo è questa straordinata testimonianza di Gloria Polo io come ripeto sono solo un piccolo strumento Rino Speranza dice donna anche la Chiesa deve e può aiutare le donne mamme ragazze madri giovani coppie quando si preparano al matrimonio molte volte lasciano la formazione allaici non sposati non sono genitori e c'è un vecchio detto che dice in napoletano poi traduco chi non è pate e non tene figli non ci è né per ramaglie né per consiglie ah che così l'ho capito chi non è padre non ha figli non c'è andare non per consolazione e non per consigli è chiaro perché non ha l'esperienza però anche noi che siamo sacerdoti e che non siamo dei padri umani padri fisici e non abbiamo figli di sangue possiamo capire lo posso garantire che si morino no? perché Dio ci dà il dono della paternità spirituale il dono della paternità spirituale che ci fa capire questa realtà perché alcuni dicono i sacerdoti no devono sposarsi i sacerdoti così capiscono cos'è la famiglia falso tu puoi capire principalmente noi siamo figli di famiglia perché siamo nati dentro una famiglia abbiamo vissuto da figli abbiamo avuto dei genitori abbiamo vissuto le relazioni parentali con i fratelli con le sorelle con i cugini e tutti quanti quindi noi capiamo cos'è la famiglia perché ci siamo nati dentro secondariamente Dio dà un dono di grazia per capire questa realtà io sto aiutando tante famiglie tanti papà tante mamme pur non essendo né padre né madre quindi come è possibile questo? è un dono che viene da Dio e la paternità è la maternità che viene dalla chiesa e che viene da Dio quindi da questo punto di vista veramente il sacerdote ha una marcia in più degli altri perché ha un dono di grazia che è la cosiddetta grazia di stato cioè il fatto di diventare sacerdoti ci dà una luce particolare per poter comprendere anche le realtà umane e poter guidare il popolo di Dio nelle vie che Dio vuole per la sua gioia per la gioia del popolo e anche per la gioia di Dio perché quando il popolo è nel cammino che Dio vuole il cuore di Dio gioisce Pina Racchiere dice ormai comandano loro noi non possiamo andare a comandare nei loro paesi nel senso ma tante volte come ho detto carissima Pina è vero che gli islamici che vengono in Italia pretendono delle cose e vorrebbero quasi cacciarci fuori di casa in tanti altri no però è anche vero come dicevo che sono i nostri e pensiamo ad alcuni politici che ora non voglio fare i nomi li conoscete tutti perché se no poi sembra che entro a gamba tesa in politica alcuni che stanno governando il nostro paese sono loro che ci stanno portando all'autodistruzione sono loro che stanno mettendo la cultura cristiana sotto i piedi no e si dicono alcuni cattolici vanno anche ammessi e fanno pure la comunione ma ci stanno distruggendo in realtà hanno apostatato dalla fede è rimasto soltanto il nome di cristiani cattolici ma la sostanza non c'è più e dovranno rispondere gravemente di questo davanti a Dio non vorrei essere nei loro panni preghiamo anche per loro che si convertano Lidia Tamigliano dice ringrazio infinitamente Gesù per avermi donato nel mio cammino tanti sacerdoti uomini veri di Dio e li ho riconosciuti sempre nel momento del loro mistero come Gesù che parla con me un dono insauribile anche io carissima Lidia ho conosciuto diversi sacerdoti veramente uomini di Dio anche attraverso i testi leggendo i testi di sacerdoti santi ad esempio San Giovanni Bosco San Giovanni Maria Vienney cioè San Giovanni della Croce questi grandi santi San Pio da Pietracina anche se non li abbiamo conosciuti direttamente attraverso le loro lettere le loro biografie i loro scritti noi possiamo entrare in contatto con loro e attraverso la loro vita Dio ci parla e Dio ci educa quindi io devo ringraziare sicuramente tantissimi santi tanti sacerdoti che ho seguito dal punto di vista delle loro biografie che ho letto che ho meditato perché ti formano ti danno veramente la capacità di prendere coscienza della grandezza del sacerdozio ma tante volte anche di sapere che noi siamo nulla diceva questo Don Mottola veramente un gigante della santità come l'ha definito il cardinale Saraiva il sacerdote è il vertice dell'umanità però dice come là nell'orizzonte dove l'acqua amara del mare si unisce con l'azzurro purissimo del cielo che bellissima immagine la stanza di questo santo sacerdote che si trovava a Tropea dava proprio sul mare e lui aveva modo di contemplare questo mistero dell'acqua salata amara del mare e all'orizzonte si unisce con il cielo e non si vede dov'è la linea di unione perché il cielo diventa mare e il mare diventa cielo così il sacerdote dove c'è la divinità e dove c'è l'umanità l'acqua amara la miseria la povertà umana del sacerdote l'azzurro del cielo il dono di grazia che viene da Cristo e fa sì che il sacerdote possa agire in nome nei Cristi nel nome di Cristo e in persona a Cristi nella persona di Gesù Cristo è veramente un grande mistero quello che ci coinvolge che Dio ci aiuti a viverlo nel modo più profondo possibile Anastasia Guarino dice una cosa assurda togliere il presepe e il crocifisso io a mia nipote a due anni gli faccio vedere la foto di Gesù di Maria bisogna seminare da piccoli proprio così carissima Anastasia ma anche quando andate nei collegi dei docenti diciamo nei consigli dei genitori collegi dei genitori a scuola dovete battere i piedi per terra e dire noi vogliamo che i nostri figli crescano da cristiani cattolici che non siano trattati come se fossero degli ateli cioè a scuola che si fa un segno di croce non succede niente che si dice una peghierina non succede niente ci deve essere il crocifisso in tutte le aule scolastiche che si mette un'altra immagine sacra non succede nulla e invece oggi non si fa più pregare non si fa fare il segno della croce si tolgono le immagini sacre e perfino i crocifissi è qualcosa di assurdo Stella Marisi dice sì ma a scuola io continuo a parlare di Dio si vede che lei è un insegnante ai miei alunni sì proprio così carissima voi che siete insegnanti avete questo dovere di far conoscere anche Dio ai bambini perché se già la mamma insegna che c'è Dio e insegna come si prega se poi anche l'insegnante lo fa e poi anche il sacerdote allora il bambino incomincia a credere dice se me lo dicono i grandi se me lo dicono tante persone allora è proprio così è vero e poi pian piano cresce e fa l'esperienza lui direttamente della presenza di Dio nella sua vita ecco allora se invece la mamma non insegna a pregare l'insegnante dice che non c'è bisogno neanche di fare il presepe al catechismo non si manda il bambino come fanno tanti che non mandano i bambini più al catechismo chiaramente quel bambino come deve crescere scristinatizzato ateizzato e alla fine magari pure satanista bene andiamo avanti con la lettura del testo perché è veramente molto bella questa riflessione che sta facendo Gloria Polo l'unzione sacerdotale o meglio questa testimonianza che sta dando nel libro della vita mentre guardavo la mia prima confessione vidi quel meraviglioso dono fatto all'umanità dall'unzione sacerdotale essa è riservata esclusivamente ad alcuni uomini scelti da Dio da tutta l'eternità questo è vero guardate questo lo posso veramente testimoniare questa cosa no? che il sacerdote che ha la vocazione vera sa che lui è stato creato per essere sacerdote il sacerdote che ha la vocazione da Dio sa che lui esiste da sempre come sacerdote nel pensiero di Dio perché Dio te lo fa capire il sacerdote che sceglie un'altra strada non potrà essere che una persona frustrata una persona che non realizzerà mai se stesse in questo mondo anche se potrebbe raggiungere qualunque tipo di successo umano ma mai sarà felice perché quello che Dio dà è qualcosa di incommensurabile il sacerdote diventa in qualche modo partecipe della paternità di Dio per l'intera umanità per tutta la chiesa e per l'intera umanità il sacerdote rende presente la stessa persona di Gesù Gesù vive nella persona del sacerdote specialmente il momento della consacrazione per noi sacerdoti quando lo viviamo in modo intenso è qualcosa di meraviglioso di straordinario sentiamo che quelle parole le diciamo in perfetta sintonia con Gesù Gesù vive noi e noi diciamo quelle parole questo è il mio corpo questo è il mio sangue non diciamo questo è il corpo di Gesù questo è il sangue di Gesù ma questo è il mio corpo il mio del sacerdote perché è il mio di Gesù perché in quell'istante il sacerdote agisce in persona a Cristi cioè è la stessa persona di Cristo è un mistero immenso è qualcosa di immenso tant'è che Catalina Rivas la Madonna Catalina Rivas fa vedere come durante la Santa Messa al posto dell'arcivescovo che stava celebrando la Messa appare Gesù cioè l'arcivescovo si trasforma nella persona di Gesù ed è lui Gesù che dice attraverso l'arcivescovo questo è il mio corpo questo è il mio sangue che mistero meraviglioso carissimi fratelli e sorelle veramente noi sacerdoti poi niente meno i vescovi che hanno avuto la pienezza del sacerdozio noi sacerdoti partecipiamo del sacerdozio del vescovo siamo collaboratori dei vescovi ma i vescovi sono quelli che hanno la pienezza del sacerdozio ecco un vescovo che non scopre questa pienezza del sacerdozio questo dono immenso che Dio gli ha fatto veramente sarà un uomo povero e infelice tant'è che oggi purtroppo si sente ogni tanto qualche vescovo che dice cose che sono molto lontano dalla fede si vede che ha smarrito la strada quindi invece ci sono dei santi vescovi veramente per me uno di questi è il cardinale Caffarra che è sparito da poco il signore l'ha chiamato a sé per dargli pace nel suo regno che veramente aveva questa consapevolezza questa responsabilità e oggi per esempio c'è il cardinale Sarà che è un uomo straordinario africano ma veramente un uomo pieno della grazia di Dio si vede come celebra la santa messa ho avuto modo di vedere la sua celebrazione nella mia diocesi è veramente un uomo di Dio ecco questi uomini ancora ci sono grazie a Dio questi sacerdoti questi vescovi questi cardinali chiamati e amati da Dio questi cardinali che vogliono amare Dio e che vogliono far amare Dio questi vescovi questi sacerdoti che vogliono servire Dio con il cuore grazie a Dio ci sono ecco preghiamo tanto per i cardinali i vescovi i sacerdoti anche i religiosi e anche le religiosi cioè per tutti i consacrati perché se nella componente del popolo di Dio viene meno questa componente essenziale fondamentale che guida la chiesa e che testimonia alla chiesa il regno dei cieli qui sulla terra la chiesa va in rovina andiamo avanti un uomo che nasce con l'unzione sacerdotale si differenzia da qualsiasi altro uomo cioè ha una marcia in più rispetto agli altri pur condividendo con essi la medesima natura e debolezza come dicevamo prima non viene meno la debolezza la concupiscenza la tentazione al peccato non viene meno nel sacerdote e che se anche si pervertisse come abbiamo parlato prima di qualche sacerdote pedofilo divenendo l'uomo più malvagio al mondo non perderebbe l'unzione ricevuta poiché essa è indelebile quando noi veniamo consacrati sacerdoti ordinati sacerdoti ci viene detto tu sei sacerdote in eterno mentre al contrario per il matrimonio si dice finché morte non vi separi cioè l'uomo e la donna rimangono marito e moglie fino alla morte se poi muore uno dei conigi il marito o la moglie il conige che rimane in vita si può risposare e quello è un vero matrimonio nella grazia di Dio un matrimonio santo al contrario il ministero sacerdotale non viene mai meno tu sei sacerdote in eterno neanche con la morte finiamo di essere sacerdoti saremo sacerdoti nell'eternità in paradiso o Dio non voglia mai per nessun sacerdote anche in inferno e proprio per aver avuto il sigilo sacerdotale che rimane per l'eternità il sacerdote sarà l'uomo che soffrirà più di tutti nell'inferno perché sarà più di tutti colui che ha rinnegato Gesù Cristo e che lo ha tradito è terribile fratelli e sorelle preghiamo veramente per i sacerdoti che nessuno mai vada perduto anche se purtroppo qualcuno si perde allora che cosa è l'unzione che rende gli unti differenti dagli altri uomini cioè i sacerdoti essa è una ferita speciale per mezzo della quale possiamo dire che gli unti sono uomini feriti e si hanno nel cuore cioè una ferita d'amore fattagli da Dio Padre per mezzo dello Spirito Santo ricalcante la ferita del cuore di Cristo che bello fratelli e sorelle è questo veramente no Signore Gesù abbi pietà di me abbi pietà di noi sacerdoti ci hai voluti fare a tua immagine somiglianza nella creazione ci hai voluti conformare pienamente a te nell'ordinazione sacerdotale ci hai voluto donare la ferita del tuo cuore dalla quale sgorga l'amore per il Padre e per l'intero popolo di Dio fai che noi possiamo essere veramente degni di questo dono immenso che tu ci hai fatto ecco l'unzione ed ecco l'unto si comprende bene allora che la vocazione sacerdotale è iscritta nel cuore di alcuni uomini e che la Chiesa nella persona del Vescovo ha il compito di riconoscerla ufficialmente ammettendo il candidato agli ordini sacri dunque ci deve essere un discernimento serio per capire se un ragazzo ha la vocazione al ministero sacerdotale perché se per caso si sbaglia discernimento e quella persona non ha la vocazione al ministero sacerdotale e viene ordinato sacerdote quindi l'ordinazione è valida se quello la vuole ricevere pur non avendo ricevuto la chiamata lì si creano guai a non finire perché non ha la capacità poi di resistere alle tentazioni perché non si sente portato a quella vocazione ogni tanto si vede qualche situazione del genere bisogna pregare anche per questi sacerdoti che magari sono un po' deboli nella vocazione o che magari sono senza vocazione non l'avevano però io dico che se anche non avevano all'inizio la vocazione possono sforzarsi in tutti i modi di metterle in pratica e quello varrà ad essi sicuramente come un grande merito se cercheranno di servire Dio e di servire il popolo di Dio così come Dio vuole secondo la vocazione sacerdotale la ferita degli unti fa sì che fin dalla nascita essi sentano un vuoto incolmabile fin tanto che il loro cuore non si unisce a quello di Cristo al momento della loro ordinazione sacerdotale non voglio come dire però devo testimoniare che è proprio così è così cioè il sacerdote che ha la vocazione fin dall'eternità fino a quando non diventa sacerdote e non realizza quello che Gesù vuole sente un vuoto nel cuore già Sant'Agostino diceva per il cristiano e per l'essere umano ci hai fatti per te o Signore e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te figuriamoci per il sacerdote il sacerdote che è chiamato ad essere Cristo stesso nel mondo pur avendo sempre nel cuore come diceva questo santo sacerdote tropeano il senso della 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 incapacità del fallimento ecco il senso del fallimento perché mai saremo veramente come Gesù fino in fondo mai riusciremo ad imitare il maestro come lui però sicuramente c'è anche questa grande gioia questo entusiasmo di cercare di imitarlo il più possibile nel momento in cui si attinge ai doni di grazia che Gesù ci ha donato che sono i sacramenti celebrare quotidianamente la Santa Messa con devozione con fervore con profondità confessarsi bene pregare il Santo Rosario avere una tenera devozione verso la Beata Vergine Maria leggere la parola di Dio leggere la vita dei Santi gli scritti dei Santi questo è veramente di grande aiuto per i sacerdoti così come anche per i fedeli per questa loro prerogativa gli unti divengono obiettivi militari del diavolo che sa riconoscere i bambini quanta ragione Gloria Polo che hanno ricevuto l'unzione e sa come renderli inoffensivi per il suo regno muovendogli una vera e propria guerra guardate ho avuto veramente grande dispiacere quando ho visto dei bambini con la vocazione al ministero sacerdotale e si vedeva che avevano una marcia in più si vedeva che erano chiamati da come pregavano da come parlavano di Dio da come erano attenti alla Santa Messa si vedeva che c'era la vocazione però poi essendo attaccati dal maligno essendo canzonati dai compagni e dalle tentazioni così via avendo delle proposte magari di altre strade hanno lasciato questa vocazione ho tentato per alcuni bambini anche per alcune ragazze e bambine che vedo che hanno la vocazione ancora oggi vedo che c'è qualche eppure non rispondono cerchi di aiutarli in tutti i modi perché oggi Satana ha al suo attivo i mass media ha al suo attivo una società scristianizzata e pagana e quindi un bambino una bambina un ragazzo una ragazza non riescono ad andare controcorrente e magari la voce di un solo sacerdote che vorrebbe aiutarli a scoprire questo grande mistero che è l'essere chiamati da Dio quell'avere lo sguardo di Dio di predilezione su di loro non basta e purtroppo ecco servirebbero delle famiglie ferventi delle comunità ferventi allora le vocazioni sarebbero veramente numerose e ferventi avendo questa situazione moltissime ma veramente tante vere vocazioni vanno in rovina le sue armi sono delle proposte di vita seducenti e umanamente appaganti alternative alla vita sacerdotale alla quale gli unti sono chiamati alcune volte carissimi e carissime anche le famiglie lottano contro le vocazioni spesso è così purtroppo e tante vocazioni non sbocciano e non fruttificano perché le mamme si mettono a piangere i papà che dicono che deve fare incominciano a criticare i predi come faceva il papà di Gloria Polo e allora subito tolgono quel sentimento quel desiderio quell'unzione che Dio ha dato a quel bambino a quella bambina sono tantissimi gli unti che il demonio è riuscito a non far ordinare i sacerdoti ecco sono tantissimi che dispiacere per difendere il proprio dono e chissà magari qualcuno di questi sacerdoti era chiamato a diventare vescovo chissà qualcuno papa così come quel bambino che è stato abortito da quella donna che è andata da padre Pio vi ricordate l'episodio che ho richiamato un paio di volte una donna che va a confessarsi da padre Pio del peccato di aborto e padre Pio gli fa vedere che quel bambino era destinato a diventare papa lei ha ucciso un futuro papa che magari avrebbe cambiato le sorti della chiesa e in qualche modo quelli dell'umanità terribile per difendere il proprio dono dall'unzione vincere le battaglie e la guerra l'unto è tenuto a rinunciare all'estituzione del maligno negandosi una vita propria per amore di Dio e dell'umanità diceva un sacerdote durante una meditazione sul sacerdozio il sacerdote è un uomo espropriato espropriato dalla famiglia espropriato dagli affetti tante volte espropriato dalla realizzazione umana per donarsi completamente a Dio al progetto di Dio per appartenere completamente a Dio e così appartenendo a Dio essere anche del popolo di Dio e dare al popolo di Dio i doni di Dio quindi come Gesù ha detto a San Pietro che gli chiedeva noi che cosa ne riceveremo per aver lasciato tutto e averti seguito Gesù ha risposto in verità vi dico riceverete cento volte tanto in case e fratelli e sorelli e madri e padri e in futuro la vita eterna insieme a persecuzioni ho citato un po' a memoria diciamo il brano non è proprio esattamente così però questo è il significato dunque Dio dà molto di più di quello che noi lasciamo Dio dà molto di più infinitamente di più di quello che noi nasciamo vi posso garantire che un sacerdote è chiamato ad avere una paternità universale ma neanche se avrà 5-10 figli si realizzerà come padre non sentirà mai che il suo cuore è sazio di questa paternità perché è chiamato ad una paternità che abbraccia tutta la Chiesa e tutta l'umanità solo così infatti egli potrà vincere realizzarsi mettendo le proprie mani consacrate le mani consacrate solo l'uomo sacerdote ha le mani consacrate al servizio di una comunità di fedeli tant'è che Gesù ha detto ai suoi discepoli imporranno le mani ai malati e questi guariranno spesse volte purtroppo non fa altro che sparlare di lui e trattarlo male cioè la comunità dei fedeli tratta male e sparla del sacerdote invece di aiutarlo nel ministero sacerdotale e molti sacerdoti vanno in rovina proprio per la mancanza di stima da parte delle loro comunità perché quando il sacerdote vede e questi mi criticano oggi domani dopodomani eccetera alla fine dice ma perché io devo fare tanti sacrifici per questo popolo che non ne vuole di che sapere in nessun modo alcuni sacerdoti buttano la spugna e dicono bene allora vedetevela voi seguite la strada che volete e non bisogna fare così chiaramente bisogna sempre andare avanti fino a quando è possibile ma Gesù ha detto anche se dove non vi accoglieranno anche scuotete la polvere dai calzari e andate da un'altra parte quindi non è che per forza bisogna imporre il Vangelo a chi non lo vuole chi il Vangelo non si impone si propone se si accoglie bene se non si accoglie ci sono tante altre anime desiderose di Dio alle quali si fa la proposta e magari l'accoglieranno egli infatti l'ho aggiunto qui però il sacerdote non è assolutamente lasciato in pace dal demonio egli infatti odia terribilmente le mani dell'unto perché sa molto meglio di tanti cattolici che solo attraverso di esse può giungere a noi la grazia sacramentale e che non c'è creatura alcuna capace di dare maggior gloria a Dio di un sacerdote capite le mani del sacerdote danno la grazia di Dio nessuno può benedire così come fanno i sacerdoti nessuno può assolvere così come fa il sacerdote nessuno può consacrare l'ecoaristia così come fa il sacerdote il sacerdote sulla terra è l'unico uomo nell'umanità che può assolvere può consacrare può benedire tant'è che la Madonna Meggiugorie dice senza la benedizione dei sacerdoti non potete andare avanti la benedizione dei sacerdoti è la benedizione di mio figlio io vi do la mia benedizione materna ma poi dovete andare dai sacerdoti per farvi benedire perché è la benedizione di mio figlio capite la grandezza veramente del sacerdote speriamo che tanti sacerdoti possano scoprire la loro grandezza e capire che c'è bisogno di fare molti sacrifici per lottare contro Satana e rinnegare il mondo rinnegare le seduzioni del mondo i piaceri del mondo tutto quello che Satana dà perché le gioie che Dio dà sono infinitamente superiori chiaramente costano sudore fatica e alcune volte gocce di sangue però ne vale veramente la pena le sue mani dice Gloria Polo hanno infatti il potere di rimettere i peccati estese in preghiera su un pezzo di pane e un po' di vino compiono il miracolo della transustanziazione cioè del cambiamento della sostanza nel quale questi semplici elementi il pane e il vino si trasformano nel corpo e sangue del Signore il demonio tenta allora di renderle inoffensive oscurando il dono di cui sono depositarie con lo scatenare contro i sacerdoti tremende campagne diffamatorie che pretendono di distruggerli tutti per il peccato di alcuni quello che vi dicevo prima cade un sacerdote nel peccato abominevole della pedofilia allora tutti i sacerdoti in qualche modo potrebbero cadere in quel peccato invece non è proprio così quella debolezza non appartiene a tutti quanti ma a pochissimi grazie a Dio e allontanare così gli uomini dalla ricezione dei sacramenti da loro celebrati e così senza i sacramenti chiaramente il popolo di Dio va alla rovina fratelli guai a giudicare i sacerdoti del Signore della santità dei sacerdoti ne risponde davanti a Dio infatti la comunità nella quale è stato posto il dono sacerdotale perciò dobbiamo pregare sempre per difendere la loro santità e se vediamo i loro peccati visibili dobbiamo amarli ancora di più aiutandoli affinché non si perdano portandosi dietro migliaia di anime amate da Dio ecco se si vede un sacerdote che sta per cadere o che è caduto bisogna pregare e digiunare per lui bisogna fare qualche sacrificio per aiutarlo è inutile diffamarlo e calunniarlo del tutto questo significerebbe portare altre migliaia di anime alla rovina e dare scandalo e poi di questo peccato gravissimo si dovrà rispondere davanti a Dio è verità riconoscere che essi per mezzo dei sacramenti sono un dono di Dio per la nostra salvezza anche quando sono in peccato mortale cioè un sacerdote che è in peccato mortale non dovrebbe chiaramente celebrare la messa in peccato mortale ma se non ha la possibilità di confessarsi in quel momento e così via per il bene del popolo può celebrare e il popolo riceve il corpo e il sangue di Cristo quella grazia la riceve anche se il sacerdote è in peccato mortale tant'è che c'è un detto latino in teologia che dice ex opera operato cioè c'è un'azione che è al di là di chi la opera cioè Dio stesso agisce per mezzo del sacerdote al di là del peccato del sacerdote la voce meravigliosa me lo fece capire dicendomi in purgatorio chi ti credevi di essere per eriggerti a Dio e giudicare i miei unti essi sono di carne chiederò conto della loro santità alla comunità nella quale ho concesso il dono del sacerdozio capite? se comprendessimo veramente tale dono daremmo gloria notte e giorno a Dio piangeremmo e digiuneremmo per i sacerdoti nel tentativo di proteggere la loro santità carissimi non mi sono accorto infervorito da questo tema sul sacerdozio che sono già le 23.30 quindi abbiamo sforato un po' la nostra ora però è veramente bello e chiaramente mi fa molto piacere parlare del sacerdozio perché è questo dono immenso che Dio mi ha fatto e che ha fatto a tanti miei confratelli e che noi sacerdoti dobbiamo scoprire e riscoprire giorno dopo giorno nella grandezza nella profondità nell'ampiezza nella ricchezza nella straordinarietà dei miracoli che il sacerdote può compiere perché agisce in nomine Cristi e in persona Cristi bene vi chiedo scusa se adesso non leggo i vostri commenti perché abbiamo fatto già tardi e facciamo un momento di preghiera e poi vi do la santa benedizione grazie a tutti voi per la pazienza che avete nell'ascoltarmi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre e nei secoli dei secoli Amen Angelo di Dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste Amen l'eterno riposo donna loro Signore esplenda ad essi la luce perpetua riposini in pace Amen O glorioso San Michele Arcangelo principe delle milizie celesti difendici nella lotta sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio il Dio lo domini supplichevoli te lo chiediamo e tu col divin potere incatena nell'inferno sata negli altri spiriti maligni che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime Amen nostri santi protettori pregate per noi ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore ti ringrazio di avermi creato fatto cristiano e conservato in questo giorno perdonami il male oggi commesso e se qualche bene ho compiuto accettalo custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari Amen il Signore sia con voi vi benedica Dio Onnipotente vi libera di ogni male maleficio maledizione sortileggio incantesimo fattura legatura stregoneria invidia gelosia odio rancore malocchio ogni forma di male occulto dalle conseguenze delle messe nere vi dia pace serenità salute prosperità comunione fedeltà coniugale fecondità di vita vi faccia crescere nella fede nella speranza nella carità e in ogni virtù vi faccia aggiungere la gioia eterna del paradiso insieme con tutti i vostri cari nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen benediciamo il Signore rendiamo grazie a Dio